Amici di Readball, siamo da Ayer, a Difa 2015 di Berlino per scoprire tutta la gamma di smartphone e tablet che l'azienda ha portato proprio qua. Abbiamo nelle mie mani uno smartphone della serie E, parliamo dell'Ayer Phone E51, un telefono di fascia medio-bassa, avvenuto ad un prezzo consigliato di 120 euro al pubblico. Avviciniamoci per vederlo meglio. È uno smartphone con Android 5.0 a bordo, come possiamo vedere, prestazioni non sempre elevatissime perché forse il software non è stato ottimizzato per il processore quad-core da 1,3 GHz di frequenza, 1 GB di memoria RAM, 8 GB di storage, schermo da 5 pollici IPS con risoluzione HD, un design un pochino poco ispirato con delle linee che ricordano un pochino gli smartphone Z3 di Sony e una costruzione prettamente in plastica. Fotocamera ad 8 megapixel nella parte posteriore, 2 megapixel nella parte frontale, connettività con doppia SIM in modalità 3G, Wi-Fi e Bluetooth. Peso di 144 grammi, insomma, è uno smartphone economico, non estremamente eccitante, possiamo dire, per le specifiche, ma comunque potrebbe essere una proposta interessante se dovesse scendere sotto i 100 euro. Questo era uno degli smartphone di Ayer qui a Difa, se volete scoprire tutto su questa azienda potete collegarvi su ridwell.com e soprattutto rimanere iscritti al canale al quale siete collegati per tutti i nostri altri approfondimenti. Per ridwell.com, Andrea Ricci.